Direttore, quali saranno le novità di questa edizione invernale? La principale novità è che per la prima volta l'edizione invernale di Cartoon Sunday Bay avrà l'assegnazione di un premio alla carriera. Quindi è una data storica sia per la manifestazione aquilana ma soprattutto per la storia del festival perché le due edizioni, estiva e invernale, a questo punto assumono lo stesso valore. Ormai questo è un punto fisso nella programmazione degli eventi perché è molto successo soprattutto tra i giovanissimi. Sì, beh, è una manifestazione che ormai è nata nel 1996 e quindi ha avuto una sua evoluzione all'inizio occupandosi solo di cartoni animati ma oggi anche di fumetti, di videogiochi e quindi è un punto di riferimento non solo per il settore produttivo dell'animazione ma anche per tutti i ragazzi perché anche in questa occasione avremo un'anteprima importante perché avremo le prime due puntate della attesissima serie Goldrake che andrà in onda poi sui canali della Rai.